Ragazzi benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, dopo avermi portato God of War Ascension che a livello cronologico dei God of War sarebbe in un certo senso il primo a questo punto perché non giocare proprio il primo, che poi sarebbe il successivo a livello cronologico non so se mi sono spiegato bene, forse non si è capito una mazza comunque viene prima Ascension e poi dovrebbe venire, cioè dovrebbe, viene God of War questa comunque è una versione HD, quindi una versione migliorata che se non ricordo male uscite nel 2010 partiamo e vediamo se può nascere una serie Fisica ce lo tiene sempre Ora non c'è più speranza E Kratos si lanciò dalla montagna più alta di tutta la Grecia Qui siamo in Grecia Dopo dieci anni di sofferenze, dieci anni di interminabili incubi, tutto sarebbe terminato La morte l'avrebbe salvato dalla follia Ma non era sempre stato così Un tempo Kratos era il prescelto degli dèi L'uride creature, vi rispedirò nelle profondità dell'Ade Però vi dico una volta, a parte il volume che è sempre altissimo Attacco pesante, ok Ho doppiaggio Ma porca di quella misera È sempre fatto Per effettuare Ah, per afferrare, per effettuare Dovrebbe essere abbastanza simile Il sistema di combattimento Forse la qualità me l'aspettavo La qualità grafica me l'aspettavo un po' meglio Credi aspettare prima di saltare a giudizio È troppo presto Pensa che si sono morti tutti Con questo saltiamo, sì R2 Quindi Tieni premuto per aprire i forzi Ok Merci Ok Inquadro la strada Forse perché siamo su un'imbarcazione Allora per questo All'acqua non penso mi faccia male No Per parare Ah, pariamo, sì Quello che sia un'imbarcazione Madonna, tanta C'è un modo anche per Ma posso anche schivare? No Non credo che posso prenderlo Per iniziare il minigioco Fanno appare sulla testa Ok Ah, ah, il minigioco intendi Intendi questo Ho sbagliato Pensavo che lo dovevo Semenare Ah, sì Eppure La donna mi ha mangiato Ah, sì Eppure Ricaricato Ho capito Sì Va bene Non manco Vai Vediamo lì Non sbagliare Essa volta Non prego Ok Non pensavo che cadessi E lo so Ma è complicato Perché in pratica Siamo completamente storti Sembra Una cagata E invece non è Chi è qui? Ma che Ma Basta mi sembra eccessivo Dov'è che andiamo? Ah, di qua Ah, lo salvo Eh, allora lo ammazziamo Ma scusami Tu Il fantasma di Sparta Sta lontano Stammi lontano Vapò Ce ne andiamo Da, basta Savo che lo dovessi salvare Invece niente Io eri attimo al menu Infopotenziamenti Per effetti Per fare una sfere Per il Premi X Per fondere Le sfere Mi si incarta la lingua Oggi Non so perché Le sfere Prenzamenti Con le tue spade La tua Vapò Allora Questo Magia Blocchata Che rumore strano Che fai? Ah, a destra Per schivare Ah, ok Sì È per Oh, Gesù Ah Stavo Fando Buonasera Ragazzi Oddio Ma dici Che l'ha schivata Ma dici che l'ha schivata Forse la schivata è buona Eh Buona, è buona questa C'è qualcuno C'è qualcuno Che si lamenta C'è qualcuno che si lamenta Vapò Io capisco che Però se questi Non mi vengono addosso Che ti becco Niente Dai Stavo accendendo l'ernia Ok Però non ci attaccano Questi Ovviamente Sono solo uccelli Di Di Corografia Forse Forse Io lo dico Per forza Ammazzata No Non si avvicinava nemmeno Quindi che facciamo Oh Mi ha preso Ce la fai? E parca di quella Prima si giocava Molto di più Su queste cose Per esempio Nel giochi Guarda Chi è fare Bravo Non mi ha preso Non mi ha preso Eh Ho capito Che ti buttare Al centro Fai Qua non sapevo Se dovevo saltare Oppure E roba Questa Come te la schifo Oh Porca Ho provato Ho provato a schivarla Però Non penso Che era Che era possibile Schivarla È andato È andato No Mi sa che ti arrampichi Aspetta Che qua Penso Ci sia Un po' Non è Acquistato Sì Ok Indietro Oh Sbaglio sempre Indietro Bella Sempre Un po' Bastanza Simile Perché È sempre Piace Un po' Occhio Occhio Madonna Ci abbiamo Un equilibrio Proprio Dove vado Alla sinistra Sei morto Ma quindi E allora Da destra Aspetta Ma secondo voi Se ho caduto Perché Dovevo andare a destra O perché Eh no Devevo andare a sinistra E allora Siamo caduti Perché Avevo sbagliato Io capisco Questo Qua cadia Figlio mio Però Non è che possiamo Cadere 50 volte Cioè Vedete Che forse Ce la facciamo Il benedetto Palo Il benedetto Palo Ma Chissà perché Stavolta Non sei morto È la prospettiva Che mi inganna Ve lo giuro Che mi inganna Che fa questo Sei Sei tu Le visioni Erano reali Gli dei Mi avevano avvisato Che il prescinto Sarebbe venuto A salvarci Dall'Indra Ma è troppo tardi Siamo in Trapola Queste creature Sono spuntate Da nulla Le navi Sono state distrutte Non c'è più sperolta Spartano Anche per Anche per Mannaccia Non ci ha detto L'ultima parola Entra nel fascio Veloce Per salvare La partita Ha già fatto Tutto Andiamo indietro Mi getto Allora Questo mi sa Che lo devo portare Tieni premuto E carica Edda Questo calcio Aspetta Sbagliato Sbagliato Grande Perché ce la facciamo Aspetta E andiamo Ok Non pensiamo Dovrebbero breccare Qua Ragazzi Sono qua L'avete fatto Ok Arrivo Desistite Ok Apriamo pure questo Vediamo Nozza Quanta roba Allora Qualcuno Ti aiuti Siamo Intrapolati Qui Ti serve La chiave Aiuto Ma non sembrava Mi ricapitare Che Se Sero in perico Sembrava Altro Allora Allora Qua non è che c'è qualcosa No Quindi vado sopra Allora Sì Occhio eh Vado Ma sto Bastardo Manco Mori Ti danno i calciati Ma se mi fai cadere Ti Questo colpo Non l'ho capito Devo continuare a salire Madonna A questo L'appero Li butto giù Bravo Ecco Tu li calci Così è più Chiarino Arriva Madonna Qua moriamo Moriamo sicuro Qua Occhio Perfetto Sapevamo Dovevamo aprire Ok Ok Con calma Con calma Non guardare giù Quello Se ci lascia La prospettiva Così Ma noi ce la facciamo Se poi All'improvviso Mi cambia la prospettiva Io col chiave Sarà là Che beccavamo Occhio Ce ne stavo Un'altra L'altra volta Non mi dico Eccessivo Eccessivo Allora Pensa che adesso Ha acquistato Un occhio Di Gorgone Raccoglile Altri 5 Per aumentare Il tuo Livello Di energia Va bene Ok Grazie No ma Ci ho un sacco Di tempo Per salire Che la chiave Che è la chiave Quella Grande Poseidone Kratos Prima che tu raggiunga Atene C'è una missione Che devi compiere Quella creatura Quella creatura L'Hydra Terrorizza i miei mari Da troppo tempo Le tue capacità Sono notevoli Ma avrai bisogno D'aiuto Ti servirà il potere Degli dei Prendi quest'arma Kratos Assorbine il potere E usalo Per sconfiggere i nemici Ma sembrava tipo torre Ha acquisito Lia di Poseidone Gli dei saranno con te Kratos Ora va Nel nome dell'Olimpo Seleziona Lia di Poseidone Premendo il tasto Destro Ok Premendo Per attivare L'attacco Oddio È bella però Ok non ma non male ci servirà sicuramente o qua c'è tanta roba perfetto ma la si salirà sicuramente mentre mi c'è lì si sa quasi salva sicuramente ragazzi scrivete su tutti i commenti che cosa ne pensate e poi magari ve l'ho detto prima fare anche una serie andare sicuramente avanti ci vediamo al prossimo video